Si chiama Chen Debrick, è una giovane fanciulla di Brickton, Michigan, in stadio in America, la quale purtroppo ha una grave, o meglio ha una rarissima malattia, o meglio patologia. Infatti pensate che la ragazza è affetta dalla paralisi periodica ipocaliemica e il cane di nome Piper è colui che va a dare vita a questa fanciulla. Infatti l'aiuta, la supporta, l'aiuta ripeto ogni giorno, quotidianamente, e qualcuno ancora oggi sostiene che gli animali siano stupidi o rincoglionici. Bene, questo è il caso parese, concreto, autentico, che i cani non sono né stupidi, o meglio gli animali non sono stupidi, e sono molto intelligenti, azzardi, a dire. Insomma, una malattia rara che si sviluppa per colpo di difetti negli animali ionici, sfruttate da fattori generici o oppositi, questa è la patologia di cui soffre la ragazza in questi anni. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va a commentare. Un cordiale saluto a voi, Dariando, un narratore, Dariando.